Allora, per me un periodo non è buono nella materialità, allora io la maggior parte del tempo sono in questo. Allora non riesco ad occuparmi troppo nello scopo spirituale, non è che io sappia che cosa sia. Va bene, solo volevo capire che cosa intende quando lui dice che tace. Io penso che tu non devi lamentarti. Il fatto che non sei soddisfatto, tu così fai un grande freno a te stesso. Come se tu sempre svuotassi il tuo motore dal carburante. Allora, il carburante per cosa? Che cosa fa questo motore? Il motore dell'avanzamento, il motore lavori, che cerchi come avanzare. Allora, di cosa intendi? Se questo motore fosse pieno di diesel, che cosa farebbe? Rav, muoverebbe tutto il tuo sistema un altro po', un altro po' verso la direzione corretta. Allora, qual è la giusta direzione? Rav, la giusta direzione è che tu scoprirai, rivelerai il bore nella connessione tra gli amici. Sì, io non ho questo, non sento. Connesso, legato, gli amici parlano qua. Allora, la strada facendo ti si rivelerà l'importanza e dalla montagna alta dove sei oggi, allora scenderai piano piano di più e di più e dalla connessione tra gli amici. Allora, va bene, non ho niente da risponderti. Rav, va un bel legame con gli amici e il bore vi illuminerà all'interno della connessione tra di voi la luce superiore che si chiama anima.